Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video e io sto già ridendo perché giustamente mi... Oggi leggo i commenti, commenti scomodi, commenti di haters che sono arrivati e mi hanno insultato, mi hanno detto delle cose, vabbè, a me, a mia moglie, pazienza dai, cominciamo! Allora, vediamo un pochettino, questo signore si chiama Andrea Maggi, mi dice che schifo di video, vabbè, che schifo di video, se non ti piace cambia, schippa, no? Cioè, voglio dire, ancora Andrea Maggi mi dice sei un ignorante, ignorante caffone. Oh, io penso, ma guarda, prima di fare un commento del genere, magari, prima di fare invia al commento, se vuoi fare haters, magari rileggilo, perché sai, se tu dice a una persona sei un ignorante caffone, fai un po' una figuraccia, sempre andiamo avanti. Ancora Andrea Maggi mi scrive, che anni, con due n, i, i, due i, male di merda, riferito a Mimmi, vabbè, dispiace perché io voglio molto bene la mia gattina, quindi è un peccato che tu non ami gli animali, magari, boh, non lo so, magari trovati degli amici, non lo so. Ringrazio Popi che ha scritto, Dai Andrea, non ti buttare giù così. Ciao, merda. Andiamo avanti. Oh mamma, oh mamma. Andrea Maggi mi scrive, Ma va a far colpini, mona? Oh, guarda, io non lo so, potrebbe essere anche una risorsa, eh, chi lo sa, sai. Con i tempi che corrono, magari, sai, io mi tolgo la barba, che ne so, io mi trucco un po', i capelli lunghi ce li ho già risparmio sulla parrucca. Andiamo avanti. Un altro che mi scrive, Video a tema camper, non li fai? Se no, cambia il nome del canale. E io gli rispondo, Ah, 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 come dire, oh, io posso scrivere quello che voglio, il canale è mio, faccio quello che voglio io. Camper Job, c'è poco da ridere. Ma io questo Mario Pallinca che vi ho presentato all'inizio, ti dico, Mario Pallinca, secondo me dovresti schifare, vai su altri canali, ce ne sono un sacco di full timer. Prova a cercare quello che più ti si addice per scrivere le tue opinioni. Andiamo avanti. Ancora Mario Pallinca mi scrive, Fra te sta su un altro canale. Dai, questo video è meno noioso, sono arrivato a un minuto di visualizzazione. Guarda, Mario Pallinca, non hai più modo di commentare su Camper Job perché sicuramente sei una persona con qualche problema. Io, come ho consigliato a quello di prima, ti dico, cercati degli amici che magari magari stai a compagnia così e eviti di perdere il tuo tempo per scrivere queste stupidate. Andiamo avanti. Massimo Tani. Massimo Tani mi scrive, Barbon lediura, spazio virgola, cosa centri, spazio, spazio, punto, con i camper. Vabbè, qui, oh, c'è proprio una compilation di gente che dovrebbe un pochino, anch'io, eh, faccio i miei errori, però questi qui mi battono. Barbon lediura. Se vuoi fare un corso, guarda, vai in Lombardia, puoi fare tutto quello che vuoi. Puoi anche migliorare il tuo milanese, non so di dove sia. Comunque, anche divertente Massimo Tani. Ancora Massimo Tani ha commentato, ehi, Barboni, ancora incazzati? San Matteo coi monsoni porta via se i Barboni. A noi. Arriviamo. Vabbè, anche simpatico come Ethers, però anche a te ti consiglio. O ne trovi uno bravo, oppure fai un po' quello che ti pare. Andiamo avanti e incontriamo ancora Massimo Tani. Massimo Tani mi scrive, Barboni, non c'entrate niente con i camorristi, vergognatevi. Io personalmente sono andato a riguardare il video dove mi ha mandato questo messaggio e sinceramente non ho mai parlato dei camorristi. Non lo so, comunque Massimo, boh, non lo so. Ancora Massimo Tani, poi mi sei innamorato di me, sto Massimo Tani. Barboni de Oxford, un ponte la meta sicura. Io ti ringrazio per il Barboni de Oxford, perché comunque Oxford è un posto bellissimo, non ci sono mai stato, comunque c'è l'elita a Oxford. Ti ringrazio molto Massimo Tani, oltre che essere divertente mi hai dato anche un po' di motivazione in più. Ancora Massimo Tani, sei proprio innamorato di me, sto ragazzo, mannaggia, guarda che io non sono da quella parte lì, eh. Aperte virgolette, Barb, virgola, che sarebbe l'abbreviativo e la riduzione di Barbun, spazio, Pathetic, virgola, Quatar, spazio, la virgola adesso basta, Straz, a capo, virgola, salvo, spazio, punto esclamativo, torno nel mio meraviglioso vivere. tre puntini tra meraviglioso vivere e dopo vivere tre punti esclamativi e due, tre punti esclamativi, scusate, mi viene da ridere, due cancelletti chiuse virgolette. Massimo Tani, dovresti provare a leggere, prova a leggerti qualche libro di italiano, ma anche quelli della terza media, vanno benissimo, ti metti lì, ti alleni un po', ma lo dico per te, a parte tutto, guarda, ti metti, è una cosa brutta, perché ho provato a vedere chi sei e ho visto che sei un hater quasi di professione, quindi non c'hai un bip da fare. Comunque, andiamo avanti, era un consiglio che ti voglio dare, poi fai come vuoi, continua a perdere il tuo tempo a scrivere queste stupidate su camperjop. Ecco qui ancora Massimo Tani, abbasta barbun, virgola, spazio, miseria, spazio, virgola, spazio, grama, e irreversibile parolone al vento. Guarda, io sinceramente penso che tu abbia dei grossi problemi di lessico, ma io non voglio stare qui a discutere il fatto che tu li abbia meno, io ti consiglio, ma prova a leggere, ma se non ti vanno bene i libri delle medie, prova anche con quelli delle elementari, guarda, li trovi a dei prezzi bassissimi, puoi prendere anche quelli delle edizioni degli anni precedenti, che comunque riusciresti in qualche modo a migliorare, anche il mio di te non è perfetto, ma non al tuo livello. Andiamo avanti. Ciao Massimo Tani, grazie nei commenti, è un etico, ma te è anche molto simpatico, mi hai fatto sorridere. Occhiata riservata, questo è vecchio, ma vaffanbip, non lo dico, pigliate e andate, spazio, due punti esclamativi, fatevi due soldini, suonate uno strumento in giro per il mondo, accattando pochi soldi per nutrirvi, tre puntini, spazio, buttate documenti e lavoro, virgola, a capo, vivete da fuori legge nella natura, contesta. Allora, occhiata riservata, non vado avanti a leggere il commento, perché alla fine si capiva che stava spamando. Occhiata riservata, io ti consiglio di trovare dei migliori contenuti per il tuo canale, piuttosto che andare in giro a spammarti in un modo poco, perché ma vaffanculo, cioè se inizi così un messaggio dove vuoi spammarti, sicuramente non provochi nessuno e meriti, dal mio punto di vista, un cancellazione del commento. andiamo avanti. Liserte Malose, una bella fantasia che non avere un nico così, ha commentato che tsunami di assurdità, benissimo, non c'è nessun problema ma puoi schippare, è come la televisione, esattamente come la televisione, non hai il telecomando ma hai il dito, fai tap e vai su un altro canale. Andiamo avanti, grazie per il commento. Freddy Fosca ha commentato aperte virgolette non lo vedo manco il video. Oh, magari avrai un 386? Cos'hai? Windows 3.1? Windows 95? Aggiornati fratello, dai. Punto. 7 metri di camper, punto di domanda. Sogna, va? Ma io sono un grande sognatore. Guarda, Freddy Fosca, io vi invito ad andare a vedere il canale di Freddy Fosca che è diventato un haters nei confronti di Camper Jobs dopo un mese che avevo aperto il canale. Lui aveva 118 amici iscritti. Quando ha visto che io sono arrivato a 119 mi scrisse un'altra volta un commento che non vi metto però scrisse così. Secondo me, mi fa, prima di tutto mi fa ma ti trattano tutti bene su YouTube. Io gli faccio, sì perché è Freddy? Secondo me sei un coglione dentro una scatola di latte. E lì gli ho scritto non ti permettere più bla 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 però poi ho capito che va bene è un bambinetto comunque anche a te ti consiglio fatti degli amici prova a vedere se riesci a cambiare un pochettino compagnie che magari l'amore verso le persone sicuramente ti può aiutare anche a te. Dai andiamo avanti dai che divertente. Paul Dupont c'è scritto Paul Dupont perché il mio francese fa veramente acqua. In camper ce la fa vivere anche mio nonno. Prova a vivere on the road senza una lira in tasca. Beh, sicuramente se tuo nonno ce la fa a vivere in camper è sicuramente un uomo che ha fatto sport è sicuramente una persona comunque forte. Comunque ti ringrazio del consiglio cercherò di tenerlo a mente nel caso che un giorno dovessi rimanere senza senza il patrino. Andiamo avanti. Woman in black Woman in black mi fa un commento un po' particolare. Woman in black prima mi ha fatto un commento su un altro video che non ricordo e mi disse una roba in una lingua che non ho neanche tradotto perché la dobo sarà straniera. Invece no. Ciao due punti secondo me sei un trans oppure hai un az in bocca quando parli. Quattro puntini. questo qui era il video sul video che ha fatto la mia dolce metà la camperessa. Io non lo so bubu cioè alla fine voleva essere simpatico simpatica woman in black non penso che tu sia una donna perché una donna non è così volgare e se sei una donna comunque figlia mia mamma mia sei messa veramente male andiamo avanti ragazzi. Vito Principe Principe mi scrive non lavori e dici che ti rilassi ma io ogni giorno che ti vedo sei sempre più vecchio non ti vedo benissimo panze e tante rughe secondo me ti stai stressando il doppio a vivere una così un abbraccio allora intanto del tuo braccio non ne faccio proprio niente Vito Principe Principe seconda cosa so io quello che devo fare tu se vuoi fare lo spettatore se vuoi fare l'hater se vuoi scrivere le tue cose cerca almeno di scriverle con un po' più di intelligenza o magari almeno si divertente tipo Massimo Tani Massimo Tani ragazzi è un hater ma è divertente cioè io mi sono divertito io mi sto divertendo a leggere queste cose e vado fuori aspetta che adesso arrivano quelli belli eh non so che li state aspettando dai andiamo avanti camperjobs coglions cavolo ti sei proprio espresso alla grande che per fare il nick ma dimmi Teo fanno un nick simile al mio ma pensa Teo ma guarda che io sono semplicemente un full timer non so mica più di pai o gente di questo livello qui o più di pai cioè o quell'altro lì fa vj ma per carità va ma per carità ma smettiamola un attimo dai cosa ti tocca fare per vivere punto di domanda lì ci andava uno spazio il mendicante tre puntini aspetta puntini altri due punti no altri due punti lo spazio fai già puntini 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 e adesso cancella e bloccami tanto tutti già sanno che vive alle spalle dei tuoi beh mi dispiace deluderti ma io non vivo proprio alle spalle dei miei anzi guarda quando è stato il momento anni fa tu questo non lo puoi sapere io ho anche aiutati uno che si fa un nick simile al mio mi fa onore perché dico mi vuoi copiare ma fai camper job 2 dai chi se ne frega e va bene dai ragazzi il video si conclude qua allora vi volevo soltanto dire una cosa a tutti quanti gli haters a tutta quanta questa gente che comunque ha voluto scrivere i propri commenti su camper job anche offensivi nei miei confronti ci stanno anche perché giustamente alcuni li ho cancellati alcuni li ho bloccati tanti mi hanno fatto ridere quindi li ho lasciati io a voi vi dico soltanto una cosa ragazzi io in questo momento anche se poco sto guadagnando grazie a voi anche grazie a voi ciao ragazzi vi saluto e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti